In qualche modo sì, la tendenza forse è pensare che è strano perché le aspettative a volte sono basse e invece in realtà ci sono tantissime persone che sentono questa esigenza. La letteratura in questo in qualche modo si può definire missione perché è necessario per ognuno riuscire ad inserirsi in un panorama più ampio e questo panorama te lo dà la letteratura. Ma tu hai scelto la letteratura classica, in particolare quella latina poi? Però questa non è una scelta facile insomma perché bisogna conoscerla. Cioè io ho studiato al liceo classico, adesso studio lettere classiche all'università. Pensa ai professori tuoi. I miei professori sono bravissimi. No, quelli del liceo dico poverini. Anche... E chi glielo corregge il compito? No, no. No. Sì, sì, no. I miei professori sono stati tutti dei bravi professori. No, non ne dubito. Li ringrazio, li ringrazio tantissimo. La passione sarà arrivata anche da loro immagino. Certo, in parte sì. Certo, in parte sì.